E' bello a tutti ragazzi Allora ragazzi siamo qua chiusi nella stanza di Pogodob Innanzitutto diamo il benvenuto a Pogodobo qua sotto i convenzi Ciao Grazie ragazzi Mi raccomando scrivete tutti quanti Hashtag Pogodogo in stream house Che è già qua Allora ragazzi ora vogliamo fare un piccolo scherzo a te Piccolo Non è che proprio piccolo Mi metterò in mutande con tutta la mia sensualità Chiaramente E mi riempirò di schiuma da barba Poi chiamerò a Zibilito Lo farò uscire dalla sua stanza E come esce ragazzi con tutta la schiuma da barba nel corpo E la sensualità di Cosa c'è? Cosa c'è? Niente erano dei cani Perché spesso te che abbaglia Comunque adesso iniziamo i preparativi Ci metteremo in cucina perché chiaramente censureremo la parte l'intima Di Alvina Perché avrò le mutande Eh però sai Ma mamma mia Vabbè vai 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 Vuoi dici così proprio? Usa un pennello per spendellare? Usa un pennello per spendellare? Ci pensiamo dopo Dai finiti con noi che ci prepariamo Ok scoglie Non la togli, resti così, diventa la tua nuova maglia. Rilassante? Perché se lui ti abbraccia viene, capito, intrappolato anche dietro. Ma che bello, soprattutto che professionista. Guarda, abbiamo un po' il davanti, eh. E' una testata. Sentiamo anche la parte di testa. Guarda che spettacolo. Che bello. È un vestito di carnevale, zio. È vero. È uscito così a carnevale. Guarda che roba. Sembri quello che fa. Guarda che spettacolo. No, però quella parte del gomito dà fastidio. Continua, continuo, continuo. Ah, ragazzi, ci hanno ascoltato un particolare. È al ventolo. No, brucia, zio, brucia. Giura. Brucia, zio, brucia. Scusa, io devo farti un primo piano da qui. Ti prego, è bellissimo. Piago. Guardate con che professionalità. Perché ti ho cagato? Ho toccato l'altro, cagato. No. Madonna, fra come brucia. Ragazzi, come brucia, te lo giuro. Menomale che non te lo sei messo negli occhi. Come è che ti chiamo? Il soprannome. Il soprannome da supereroe. Veloce. Un nome di supereroe. Sì, veloce. Schiumaman. Schiumaman. Schiuman. Così unisci tutto, vai. Schiuman. Schiuman. Ne vado a controllare. Non è giusto. Adesso vado nella tua salta. No. No, no. Non mi tocco niente. Io lo piano piano così. E tra l'altro, no, aspetta, vado a fare con l'uscita anche da fuoricampo. Ma vediamo. Io sono Schiuman. È il mio simbionte creato nel mio romano. Schiuman. 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 Alza la mano a sinistra. Alza la mano a destra. Alla attacca. Schiuman. Schiuman. Ti sei schiumato anche tu il braccio. Schiuman. Sei pronto, bro? Bro, io lo chiamo. Io lo chiamo. Io lo chiamo. Io adesso lo chiamo, ok? Lo fanno chiamare. Lo fanno chiamare. Oh, me lo fanno chiamare. Schiuman. Io sono Schiuman. Schiuman. No. Schiuman, prega. Non mi ce l'aveva fatto niente. Ho io bacio. Mi hai portato la Schiuman. Schiuman. Lui correva a baciare. No. Che cazzo. Non sei merda. Oh, no, basta. No, per favore. Fratello, Schiuman, anche lui. Cosa lo dice? Devo tipo braccare il Tecnoid. Perché io sono Schiuman. Io sono Schiuman. Schiuman. Fatti chiamare. Non ti sei facciato, perché la vada tecci. Sì. Fatti chiamare. Fatti chiamare. No. 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 La schiumanica. Ma come è possibile? Ma per che? Ma per che? Ma per che? Ma per che? E' da qui? Ma per che? 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 Paolo. Paura in giro di bolliccia! Oh la vicina! Dai, dai, dai! Oh, what's up? Dai che mi stava facendo la barba! Ma che è facendo quella roba? La barba dei capelli? Dai, 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 dai. Io non so ne ho capito! Oh, ho l'altro che mi ha detto! Non so ne ho capito! Venti, sono le passazioni del 2020! è il 23 comunque il 2023 però che passi bene sei bruttissimo io ti mostriamo a me e spesso non mi sa che si è scuso perchè sono io ma sei il mio letto in effetti sai il galanello nooo scusa prendi un attimino quello lì prendi il calanello prendi un attimino perchè c'è un amico che non ha ancora provato gli abbraccio di schiume abbraccio di gruppo abbraccio di gruppo allora ragazzi oggi è questo però il meraviglioso è finito ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando ricordatevi il 7 e l'8 ottobre 7 e l'8 ottobre per questa settimana allora ricordatevi che il 7 e l'8 ottobre sarebbe la fiera romics di Roma tutti quanti ci vediamo allo studio dello stand di Insigne Padiglione numero 6 ci siamo ci vediamo sabato e domenica vi vogliamo vedere ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.